A SIGEP il Takeaway incontra il design e la sostenibilità. È in corso la 39esima edizione della Fiera Internazionale dedicata alla gelateria, alla pasticceria, alla panificazione e al caffè. A Rimini si sono aperte le porte di una 5 giorni di eventi, di competizioni, di show cooking e di convegni mirati a migliorare e incrementare le attività che ruotano attorno al food italiano. Secondo il ministro Franceschini è iniziato l'anno nazionale del food italiano. La cultura del cibo e la qualità di produzione che caratterizza il nostro paese si fondano con le meraviglie del territorio in un connubio di scoperta e di evoluzione. L'interesse internazionale verso questa manifestazione cresce ogni anno e in questi giorni sono 160.000 i buyers provenienti da 180 paesi a corsi per conoscere le novità del settore. Innovazione, tecnologie e food service 5.0 sono le parole chiave di questa edizione di SIGEP in cui si analizzano non solo gli ingredienti, le ricette e le tecniche di produzione ma anche gli impianti e gli imballaggi che confezionano il cibo per un consumo più in linea con le nuove abitudini alimentari. Si punta a confezioni sempre più biologiche, ecosostenibili e possibilmente commestibili. Questo per andare incontro alle nuove esigenze di vita e di alimentazione della popolazione sempre in movimento e sempre più orientata a pasti da consumare singolarmente. Si ricerca il packaging più raffinato e minimale dove il design incontra realmente la praticità rispettando l'ambiente. Il takeaway e le soluzioni monouso sono tra le proposte più presentate a SIGEP. Tra i materiali che le compongono spicca una novità, la polpa di cellulosa all'HTB materiale brevettato da mytakeaway.it e creato per produrre nuove soluzioni di packaging rivoluzionarie. Medac propone invece coppette per il gelato realizzate in materiale 100% biodegradabile compostabile che fanno parte della linea E-Cup. Praticità, biodegradabilità, trasparenza di intenti, di produzione e minimalismo nel design purché si notino ricercatezza e qualità, questi sono gli elementi caratterizzanti delle nuove soluzioni di packaging presentate a SIGEP 2018. La manifestazione coinvolge come sempre il visitatore accompagnandolo in un percorso sensoriale ricco di eventi alla scoperta dei nuovi gusti che caratterizzeranno il futuro alimentare.